Sì, ci sarebbe di là Aronne Piperno lebanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo. Sarebbe giusto, dici? E credo di sì, signor Marchese. E allora, facciamo giustizia. Sì. Fallo venire. Aronne Piperno. Mo' vago. Tiè. Aronne Piperno. Vieni, vieni. Vieni avanti. Ti perisco, eccellenza. Aronne, tu lavori bene. Grazie. Bella poasserip, bella armadio, bella cassa panche, bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso ne puoi andare. Non ho capito, eccellenza. Hai capito? Ho detto, adesso te ne puoi andare. Me ne devo andare, ma io ci avrei... Che ci avresti? Il conticino. Ah, c'hai il conticino? E dammelo, sto conticino. Ecco. Ecco il conticino. Ecco fatto. E perché l'ha strappato? Beh, che ce faccio? Ma come le ce faccio? I soldi miei? E non ti do. Come non mi da? E come? Vuoi sapere la procedura? Eh, sì, sì, sì. Io i soldi ne li caccio e tu ne i becchi. Ah, ho capito. Me vuoi fare uno scherzo. Credo. Ecco, bravo. Chiamalo scherzo. Lei è famoso per gli scherzi. Ne raccontano tanto. E allora racconta pure questo. Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto? No. Il Marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga. Io non te pago. Buttalo fuori. E c'è qualche cosa che non fa, eccellenza. Ma tutta ronna mia. Tanto comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi so fatto pure male. Ma io che c'ho... Non è una buona ragione questa? Sì, eccellenza. E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati, falegnami, hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato il nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato questo patto? Ma certo, eccellenza. O senti, comunque se credi avevi ragione, fammi causa. Ma io c'ho ragione. E va beh, sei giudici, dà l'anno io te pago. Adesso fammi andare a dormire che io so stato più aiutato. Ce li peggio, eccellenza. No, no. Vengo domani. No. Io c'ho famiglia. E io pure. Ma che devo fare? Ce ne devi, Anna.